Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, tornando a parlare di giochi di ruolo, vi voglio presentare la nuova edizione di Warhammer Fantasy Il gioco di ruolo, edizione italiana a cura della Need Games che ci hanno fornito a questo manuale che ringrazio veramente di cuore, è sempre un enorme piacere e un onore disumano poter collaborare con voi, avere la possibilità. E vi vado a parlare della vecchia ambientazione di Warhammer, quindi il vecchio mondo che tanto abbiamo amato e che io continuo ad apprezzare molto di più dell'Age of Sigmar, per quanto sia un'ambientazione spettacolare e bellissima anche quella ma il fascino del vecchio Warhammer e del vecchio mondo con cui siamo cresciuti è assolutamente, secondo me, un'altra cosa. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Warhammer Fantasy, il gioco di ruolo della Kubi Call 7, edizione italiana, come torno a ripetere, della Need Games è il gioco di ruolo di Warhammer Fantasy, ammettazione del vecchio mondo che è il successore diretto di un gioco vecchissimo, o almeno abbastanza vecchio, ero piccolo, siamo tipo 14-15 anni sempre ammettato nel vecchio mondo di Warhammer Fantasy, che era Martelli da Guerra e meno male che in tutte le edizioni successive a Martelli da Guerra non hanno più tradotto il nome in italiano, perché Warhammer, va bene Warhammer, in tutte le lingue del mondo Martelli da Guerra non ci stava male tradotto in italiano, però comunque era un po' una forzatura di voler per forza tradurre anche un titolo. Questa è la primissima edizione, non era incartonata, questa qui era copertina, quella non rigida e questa è la primissima edizione che venne fatta, se non erro, della Nexus sì, edito da Nexus, era Martelli da Guerra praticamente le regole che trovate qua dentro, scusate, in quello nuovo sono le stesse che c'erano un tempo in Martelli da Guerra e è stata anche una cosa che ho molto apprezzato, visto che come dico sempre quando un sistema funziona, tutt'al più puoi aggiungere qualcosa, però non troppo perché rischi di andare a snaturare il prodotto o comunque andarlo a pesantire se un regolamento funziona bene, non ci mettere nient'altro, lascialo stare così e infatti avendo letto questo qui, conoscendolo, avendoci giocato tantissimo mi sono letto l'ambientazione perché qualcosa non mi ricordavo ma praticamente le regole sono al 98% le stesse della prima edizione Martelli da Guerra si torna a parlare di Warhammer Fantasy, si torna a parlare di vecchio mondo reami famosi come Tilea, che poi vi ricordate è l'Italia della Games Workshop, si torna a parlare del mio reame preferito che era Bretonnia, che non so perché, apro una piccola parentesi a volte, no a volte, sempre, nel manuale quando si riferiscono a Bretonnia la Bretonnia, cioè perché ci mettono l'articolo davanti Bretonnia, vabbè comunque una piccola precisazione e l'ambientazione è quella storica che qui nel manuale base si parla più che altro dell'impero, si parla anche della foresta di Atelloren si parla di Bretonnia, si parla delle terre del caos, di Tilea, di Norsca si parla di tutta l'ambientazione di Warhammer Fantasy, vecchio mondo però qui nel manuale di base sarà motivo sicuramente di manuale di espansione e qui si parla più che altro dell'impero quindi Mariensburg, la capitale dell'imperatore Karl Franz e di tutto quanto quello che è rota intorno all'impero del vecchio mondo e il regolamento, ragazzi, è veramente facilissimo e semplicissimo nel frattempo vi faccio vedere un po' di immagini del manuale sfogliato il regolamento è semplicissimo perché è un regolamento che va a percentuali e questo è il manuale più completo che io abbia mai visto negli ultimi anni ma anche nell'ultima decina di anni tranquillamente perché qua dentro c'è tutto cioè non c'è spazio alla fantasia per la creazione del personaggio o meglio, quella c'è, però non ce n'è bisogno ci sono tipo 20-30 pagine di classi, di carriere ci sono tipo 100 classi da scegliere ad esempio non c'è il ladro che magari potrebbe essere ladro oppure assassino per esempio qui c'è il ladro, c'è l'assassino c'è il borseggiatore, c'è il tagliagole c'è il mercenario, c'è il guardavia c'è il garzone insomma ci sono tante, tante, tante varianti che non ti viene nemmeno in mente di crearti qualcosa di tuo perché tanto ci sarà già sicuramente nel manuale le razze sono quelle classiche alfling poi ci sono i nani ci sono gli elfi che è elfi alti oppure elfi silvani nell'ambientazione appunto del vecchio mondo umani per la maggior parte e poi tutto quanto ovviamente razze del caos e cose del genere che qui non vengono contemplate o meglio non puoi farti un personaggio del caos però niente te lo vieta di prendere punti corruzione con regolamenti magari giocando e non volendola passare tipo un dio come Nargo lo zinch se non Corne o Slanish quindi alla fin fine se il game master te lo fa tenere un discorso però per ora qui non si parla di poter fare personaggi votati al caos e regolamenti è sempre lo stesso ci sono tutte quante le caratteristiche abilità di combattimento forza, abilità balistica sembra di compilare una scheda di una truppa di Warhammer e ci sono le percentuali quindi te vai a vedere quanto hai nella percentuale combattimento che si va ovviamente da 1 a 100 che mi sembra il valore di partenza sa agire sul 15-20 una cosa del genere comunque vai a vedere con la classe che hai scelto la carriera che hai scelto sicuramente di partenza ma solo di partenza un cavaliere combatterà meglio di un garzone oppure un guardavia degli elfi tirerà meglio con l'arco abilità balistica rispetto non lo so a un mercante dei nani questo è poco va sicuro quindi alcune classi nei 4 stadi nei 4 step che hanno di evoluzione chiamiamoli livelli hanno sicuramente la possibilità di alzare prima o dopo una caratteristica appunto collegata a quella classe lì e quando si va a fare una prova che ne so nel combattimento si va a tirare la mia abilità di combattimento mettiamo caso che sia io che l'avversario abbiamo 50 quindi io col dadore a 100 devo fare 50 o meno e l'avversario si difende tirando la sua abilità di combattimento se io riesco lo colpisco se lui riesce ovviamente se io riesco lui fallisce poi vi dico se io riesco lo colpisco se lui riesce mi pare al colpo se tutte e due riusciamo nel tiro si va a vedere che ha fatto il tiro più alto e si va a prendere la decina se io ho tirato un 30 e comunque il 30 è inferiore a 50 quindi l'ho colpito e lui invece ha tirato un 10 il 10 è inferiore al suo 50 quindi avrebbe difeso però la mia decina è 3 30 la sua decina è 10 quindi la mia è più alta della sua e il colpo è entrato comunque anche se abbiamo fatto lo stesso risultato ci sono le armi che danno un bonus quindi al danno che si va a fare quindi magari una spada potrebbe darti più 5 o più 6 quando vai a colpire vai a vedere la decina al solito il mio 30 che diventa 3 più 5 8 quindi è tutto un regolamento molto semplice ci sono ovviamente cosini in più riguardo alla magia e cose del genere però tutto il regolamento si basa fondamentalmente su tiri contrapposti oppure tiri liberi per fare una prova corro rincorro un ladro devo saltare fra un tetto nato a distanza del salto 3-4 metri ce la farò magari il game master mi dice tira sull'abilità destrezza agilità oppure tira sull'abilità saltare oppure fai un tiro con un bonus un malus perché se devo saltare 20 centimetri magari mi da un bonus del 40 più 40 e la prova la passa automaticamente se è un salt che devo saltare 5-6 metri e non sono un atleta magari mi darà un malus di 20 30 a 40 il regolamento ragazzi senza stare poi a parlare di tutto quanto gira bene o male intorno a queste cose quando si va a fare il danno in un combattimento si tira per colpire tutto quanto si mette la decina più come vi ho detto prima il bonus dell'arma magari più 5 quindi più 3 che ho fatto io diventa 8 complessivo e si va a vedere la locazione colpita che è una cosa che ho sempre adorato anche di martelli da guerra quando voi fate un tiro e riprendiamo lo stesso esempio se io tiro e faccio 30 che è inferiore al 50 quindi ti ho colpito poi bisogna girare il risultato quindi 30 diventerebbe 0-3 se fosse stato ad esempio un 47 47 girato sarebbe diventato 74 si va a vedere sulla lista della tabella delle locazioni vai a vedere dove sei stato colpito quindi magari con quello 0-3 ti ho preso alla testa ora non me ricordo o al braccio si va a vedere la resistenza dell'individuo che si va ad attaccare perché magari se quello ha resistenza 3 già ti leva 3 al danno con la resistenza e quindi andando a levare 3 al danno da 8 ridiventa 5 poi bisogna vedere se c'ha l'armatura perché se c'ha un'armatura completa avrà armatura anche nel braccio se magari c'ha soltanto un corpetto e le braccia ce le ha scoperte magari non avrà il livello d'armatura e quindi entreranno 5 danni al braccio se avesse avuto un valore armatura di 2 da 5 ci si scalava altri 2 diventava 3 danno che prendeva al braccio si subiscono critici quando l'allocazione arriva a 0 quindi non c'ha più punti ferita tutti i danni in più che si subiscono sono danni critici quando si subisce un danno critico si tira da 1 a 100 sempre tutto da 1 a 100 si va sulla tabella dei danni critici si va a vedere la allocazione colpita e si va a vedere cos'è magari con un 100 li ho strappato via il braccio per farvi capire quindi il regolamento bene o male è tutto qui quando combattete i mostri è la stessa cosa andate a tirare la vostra abilità di combattimento contro la sua è così è sempre una contrapposizione una cosa che apprezzo molto non è tipo la dnd che quanto c'ha il mostro di classe armatura abilità io devo tirare per colpirlo qui no qui tirate sempre contrapposti perché se io sono uno spadaccino abilissimo che magari nel combattimento con la spada e lo scudo ho le due armi ho un'abilità che mi va a far tirare un 80% quindi 80% o anche 90% o meno in corpo a corpo sarà difficile colpirmi perché comunque i colpi te li parerò sempre perché è la mia abilità contro la tua ed è giusto che uno spadaccino o uno molto abile faccia un bel paiolo a chi comunque non sa combattere quindi c'è sempre il tiro contrapposto il tiro libero non c'è mai almeno che non sia un'abilità balistica in quel caso sì non è che schiva le frecce però o i fucili però nel combattimento no e bene o male regolamente è questo in conclusione questo Warhammer Fantasy il gioco di ruolo è una figata disumana si torna ancora una volta all'amore veramente spudorato per martelli da guerra e chi non ha avuto il piacere di giocarci e farci campagne anni fa ha ora la possibilità di giocarle in una nuova edizione molto più bella di questa ovviamente grazie al cavolo ed è bella zeppa di contenuti disegni colorazione fatta veramente bene tradotto da paura lavoro disumano di localizzazione come ci ha abituati ormai troppo bene in hit games e a livello ragazzi non c'è da inventarvi niente non mi è mai capitato di sfogliare un manuale ma invece di fare ve l'ho detto il ladro non c'è voglio fare invece il ladro un assassino che non pensa a rubare pensa a ammazzare un tagliagole un sicario no c'è invece di fare il cavaliere vorrei fare magari lo scudiero vorrei fare lo stalliere c'è anche lo stalliere c'è tutto non avete da pensare niente c'è solo da sfogliare le pagine e vedere la classica heavy garba sceglierla mettere con i bonus compilare la scheda e tutto quanto e scegliere ovviamente la razza consola perché non c'è limite lo dice lo stesso manuale nelle piccole note però è normale che magari un cavaliere nano fa un po' ridere oppure uno stregone nano però se il game master ve lo permette potete fare qualsiasi cosa quindi passato assolutamente a pieni voti io ringrazio niente games per avermi fornito questa coppia seguirà a breve la nuova edizione di warhammer 40.000 che mi piace molto più del vecchio mondo che è vratta in glory e se lo volete acquistare primo link in descrizione in soviimpressione dalla giocolibreria Simola nostro negozio sponsor al miglior prezzo sul mercato e vi ricordo quando acquistate qualcosa usate sempre il codice sconto Coridan7 per uno sconto del 7% ce lo ha in lista però nel caso non l'avesse andate sul sito lo cercate non c'è in lista oppure c'è ma è finito scrivete a Corrado il proprietario al supporto e ditegli arrivo dal canale di Coridan ho visto il video di questo gioco di ruolo di Warhammer Fantasy si potrebbe avere sia che ce l'abbia o che l'abbia finito che non ce l'abbia quindi disponibile in catalogo voi chiedetelo farà possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato e usate il codice sconto per spese superiori ai 79 euro spese postali gratuite in tutta Europa con consegna in 48 ore quindi anche velocissimo ragazzi fatemi sapere un po' cosa ne pensate e per me veramente è una figata disumana e questo è il classico regolamento pieno zeppo di roba e c'è anche tanta lore non spiega tutto quanto però vi dice giocate nell'impero e vi spiega filo e per segno tutto quanto quindi un manuale c'è tutto non avete bisogno di nient'altro per giocare praticamente per mesi se non anni ciao ragazzi alla prossima